Dragon Ball Super Il nuovo manga di Akira Toriyama Bello Figo Ok Sfere del drago grandi quanto pianeti Va bene Su una mech le sfere erano grandi quanto palloni Quindi ci sta Ok per la presenza di più universi Uno parallelo all'altro Così viene spiegata meglio l'esistenza di Trunks del futuro Bulma ha una sorella e... Un attimo Bulma ha una sorella? Da quando in qua Bulma ha una sorella? Perché in tutto l'arco narrativo di Dragon Ball Non è mai stata menzionata l'esistenza della sorella di Bulma? Perché né Bulma e né nessun membro della famiglia di Bulma Tipo la madre, Vegeta, Trunks Che quando è piccolo parla come la merda Il padre e nemmeno il gatto Hanno mai parlato di questa fantomatica sorella? Da dove cazzo è sbucata questa sorella? Ciao! Ciao! Ciao!